Eccoci qui di nuovo insieme, stanno per finire i primi tempi delle gare di Europa League con l'Atalanta ancora sotto in casa per un gol Allora parliamo di Inter e per farlo ovviamente ci colleghiamo anzi lo ringrazio perché ci dedica qualche minuto della sua serata a chi ieri sera ci ha raccontato l'Inter fino ai calci di rigore Michele Borrelli, ciao Michi, buonasera Ciao, ciao Francesco, un saluto a tutti Allora, com'è stata questa giornata? Un po' è passata la delusione? No, guarda, a me Francesco non passa ancora quella del 2007 col Valencia figurati quella di ieri sera Non faccio a caso il riferimento a quella del 2007 perché era l'Inter dei record che stiamo paragonando all'Inter dei record in campionato di quest'anno e lì ci fu poco turnover prima della partita del Valencia del ritorno Qualcuno degli interisti mi dice che col senno di Poglio dal divano è facile Io mi permetto di dire che l'ho detto prima, vi seguivo anche quando parlavate del turnover di De Rossi stasera dopo il 4-0, dice se non si fa dopo il 4-0 quando si fa il turnover? Allora io dico se non si fa quando sei a più 15 quando si fa il turnover e quindi poi ci sono tante cose da dire sulla partita di ieri però questo è un aspetto che non avrei voluto rivivere una ventina d'anni dopo perché era andata così 20 anni fa Ne abbiamo parlato anche della Juve di Conte quando ha chiuso a 102 col Benfica ma lì era un po' diverso e questo non mi andrà mai giù e non sarò mai d'accordo insomma quando gli allenatori 4 giorni prima ti sei guadagnato questo grande vantaggio e devi dare il segnale al campionato, il segnale ai giocatori secondo me Bastoni, Barella, Mkhitaryan, sottolineo soprattutto questi tre averli al 200% ieri con una partita riposati poteva essere insomma importante ovviamente non si può ridurre tutta la partita a questo e perché ci sono tante cose da dire Fabio, sei d'accordo con Michele? Cioè fare turnover magari a Bologna anche se non vince Bologna alla fine non è che ti cambia molto per un campionato che ormai è finito da un pezzo è il solito discorso del segno di poi del turnover io rilevo e credo che Michele possa essere d'accordo con me che l'Inter ieri ha buttato via veramente una grandissima occasione e per analizzare questo ho tirato giù due numeri la partita, la doppia sfida tra andata e ritorno col fatto che a ritorno si è andata ai supplementari ha avuto un totale di 210 minuti di gioco tolti i minuti di recupero, facciamo cifra tonda 210 minuti su questi 210 minuti in 113 c'è stata situazione di parità in 97, 11 all'andata e 84 al ritorno c'è stata situazione di qualificazione Inter in nemmeno un minuto sui 210 c'è stata una situazione di qualificazione atletico questo dimostra quanto l'Inter ha sprecato un'occasione clamorosa perché ha messo in condizioni di passare il turno una squadra che solitamente si dice nei 180 minuti in questo caso addirittura nei 210 non è mai stata un minuto solo in situazione di qualificazione diretta intanto è finito il primo tempo ha sbagliato un gol a portavuota decide Pedro Gonsalves al trentatresimo Atalanta in questo momento fuori ma c'è tutto il secondo tempo insomma speriamo che entri un'Atalanta diversa nella ripresa assolutamente sì 45 minuti per provare questa grande impresa io tutto questo Inter dominante non l'ho vista nell'andata la traversa che ha preso per carità all'andata all'andata ha giocato bene all'andata ha giocato bene molto più all'andata che al ritorno assolutamente ieri è stato un Inter all'andata ha meritato di vincere Matteo ci sono mille episodi più di me Borrelli potrebbe ribatterti che se all'andata fosse finita 3-0 io ti dico infatti senza nessun se ti dico i numeri dicono questo se al 93 ieri ricalmi la butto dentro ma è un altro se invece i numeri ci dicono i numeri ci dicono che su 210 minuti giocati tra andata e ritorno supplementari l'Atletico non ha mai avuto un minuto di qualificazione questo ti dimostra come l'Inter ha buttato via una qualificazione che era ampiamente alla sua portata non ha avuto un momento di se sbaglia il 94 un gol che poteva voler dire la qualificazione ma non lo ha fatto ma se tu la spieghi così sembra che l'Inter abbia stradominato due partite e invece non è così ma lo dicono gli avventi ho appena detto per più della metà del tempo è stata situazione di parità nell'altra metà del tempo è stata qualificata l'Inter che dimostra come l'Inter ha buttato via la qualificazione visto che non abbiamo tutta la serie per stare con Michele ma tra poco ci deve lasciare qual è stato secondo te come dire la pecca maggiore cioè le occasioni sprecate a San Siro il fatto di essersi ritrovati in vantaggio e subito dopo aver concesso il pari all'Atletico ieri sera la non serata brillante di alcuni giocatori che spesso invece risultano determinanti penso a Lautaro penso a Michi Itarian Allora intanto io ho capito cosa voleva dire Fabio nel senso cioè lui dice per esempio ti do un dato che è importante oggi gli allenatori spesso vedono per vedere le prestazioni però il calcio non è la box quindi non si vince i punti quindi io non dico attenzione io dico l'Atletico ha meritato l'ho detto anche ieri sera perché nel calcio devi buttare la palla dentro e l'Inter non l'ha buttata gli expected goals dell'andata erano 2-0 per l'Inter l'Atletico ha fatto 0-0 ti rimporta l'andata al ritorno 2-1 a favore dell'Atletico Madrid però ripeto gli expected goals sono le premesse che tu crei per segnare poi la devi buttare dentro e questo è un difetto dell'Inter che crea tanto in campionato a 70 gol nettamente il primo attacco ma ogni partita crea tantissimo per segnare 2-3 o 4 gol e in Champions devi essere un po' più cinico perché si alza il livello non ti puoi permettere di sbagliare tantissimo all'andata l'Inter un paio di gol clamorosi l'ha sbagliati quindi tu dicevi qual è il maggior rammarico allora il primo non aver avuto la squadra al 100% sicuramente tra le 39 partite di quest'anno non è stata la migliore Inter ma non è stata nemmeno una delle migliori 10 o 15 o 20 Inter dell'anno e questo è un grande rammarico perché io il mese di marzo lo potevo programmare per arrivare al 13 con insomma il serbatoio pieno come avevo detto prima ci metto pure il Genoa dentro non c'era solo il Bologna in questi 13 giorni post Inter Atalanta quindi questo è un rammarico poi ci sono state anche delle contingenze perché c'è la Noglu tornata dall'infortunio Turam tornata dall'infortunio Acerbi non ha giocato dall'inizio perché non stava non stava benissimo ma questo vale anche per l'atletico che non ha avuto Morata all'andata Griezmann è tornato dall'infortunio Chimenez era fuori l'Inter secondo me resta superiore all'atletico ma questa superiorità la devi concretizzare buttando la palla in questo sport si vince se segni e quindi il maggior rammarico è non aver vinto 2-0 all'andata numero uno l'hanno scritto anche i giornali spagnoli all'andata l'Inter ha fatto un errore ha tenuto in vita l'atletico seconda cosa nel secondo tempo l'Inter è vero che si abbassa ma abbassandosi l'atletico va sempre più in avanti perché deve segnare e al 76esimo e all'82esimo parlo di 15 minuti dalla fine 8 minuti dalla fine Lautaro dà due bellissimi palloni uno a Turam e uno a Barella quello di Barella non era proprio facile ma quello di Turam insomma si poteva almeno tirare nello specchio della porta invece lo tira alto poi l'Inter quest'anno quindi ho detto il primo rammarico è quello dell'attacco che non ha concretizzato le occasioni però devo dire pure che l'Inter quest'anno ha dimostrato di avere una difesa solida ieri la difesa era tutto fuorchestra solida l'approccio non mi è piaciuto Pavara ha sbagliato nel primo quarto d'ora già tre palloni poi sei passato in vantaggio ma hai regalato il pareggio e quello è un rammarico perché passi in vantaggio sei 2 a 0 nel totale dopo due minuti subito sprechi questo vantaggio con un'ingenuità perché è un pallone mezzo lisciato così poi nel finale dove sono venute meno alcune forze ha fatto dei cambi i cambi erano un po' più sulla difesa che sull'attacco secondo me ci poteva stare perché l'Inter è sempre stata una squadra che quando si è chiusa quest'anno l'abbiamo sottolineato tante volte sa soffrire il problema però qual è stato che l'atletico anziché mettere i palloni in mezzo come è capitato tante volte negli assalti finali in Serie A ha messo per caratteristiche aveva quelli in panchina Correa e Depay è uscito Morata e c'era Griezmann quindi giocava con tre punte tutte e tre veloci rapidi e la difesa dell'Inter era invece più di gente forte fisicamente alta e hanno sofferto molto Correa non tanto ma Depay tantissimo Depay ha preso il palo a 5 minuti alla fine ha segnato il gol con Depay in quella situazione si è fatto trovare un po' lontano e poi quell'occasione che ricordavano in studio del 3 a 1 di Richelme è mancato poi pure ai supplementari c'è il rammarico perché ai supplementari il secondo tempo supplementare l'Inter ha avuto un po' di più il pallino del gioco però anche lì non è riuscita insomma Lautaro di testa sull'angolo di poco fuori Turam di testa nettamente fuori il cross di Frattesi Lautaro non ci ha faceva più per finire i calci di rigore quella era una cronaca di una morte annunciata perché Sommer è bravo a parare i rigori Oblak è bravissimo ma i tiratori dell'Inter oggi abbiamo scoperto perché siamo andati a vedere tutte le statistiche io contestavo Sanchez e Lautaro rigoristi e gli altri giocatori dell'Inter nella loro carriera hanno tirato un rigore a testa è una cosa incredibile avere solo Cialanoglu bravo rigorista tutti gli altri purtroppo hanno statistiche pessime da Sanchez Lautaro tutto giusto quello che hai detto Michele condivisibilissimo però mi dovrebbe anche citare le due o tre pezze che ieri ha messo Sommer perché ieri sera Sommer ha messo due o tre pezzi importanti soprattutto nei 90 minuti se non vado errato poi ne ha messa una bella anche su Depay all'inizio del primo tempo supplementare non vorrei dire sciocchezze cioè nel senso secondo me il rammarico dell'Inter è soprattutto nella gara di andata perché ieri sera io credo che nel complesso l'Atletico Madrid abbia fatto un partitone e l'Inter oggettivamente è stata un'Inter brutta non so se sei d'accordo sì ripeto l'Atletico non è l'abbiamo detto anche ieri sera non ha più Godin Miranda non sa fare il fortino è un atletico che sta volgendo a una squadra più propositiva quando era uno a uno il tempo passava nel secondo tempo si è dovuto per forte sbilanciare a un certo punto ha messo addirittura i tre davanti e dietro non ha nessun il forte il venez non c'era Vizzele è un centrocampista che si adatta ma comunque a 35 anni non è velocissimo Savic non è un fulmine di guerra quindi tu gli spazi li avresti avuti sicuro anche con un Inter un po' sulle gare e li hai avuti e se li hai e non sfrutti le occasioni che ti arrivano in Champions non puoi permetterti o pensare che sbagli all'andata sbagli al ritorno sbagli in difesa sbagli in aria e vuoi pure passare Marcello hai una parola di conforto per il tuo amico Michele ma io e il mio amico Michele ci vediamo domani in diretta lì quindi avremo modo di confrontarci ma Michele è un bravo ragazzo è uno anche obiettivo ha anche detto e ha anche ammesso che non gli è piaciuto l'Inter che quindi ha meritato di uscire quindi gliene do atto di questo non voglio infierire più di tanto ci penserò domani sera quando lo avrò di fronte che argomenteremo in diretta tutta la situazione va bene Michele grazie mille per il tempo che ci hai dedicato buona serata io Francesco voglio dire solo una cosa io a Marcello perché quando lui prima diceva i record non servono eccetera i record dell'Inter di quest'anno sono in Serie A cioè in Champions non ha battuto record quindi i record sono sul campionato in generale il campionato come hanno detto i giocatori devono completare il lavoro fino a ieri l'abbiamo definito una stagione 15-16 ma fino a ieri l'abbiamo definito una stagione straordinaria poi il record non è che uno gioca per il record il record è la conseguenza fotografa quella che è stata la stagione ripartiamo da qui ripartiamo da qui intanto domani vi ritrovate stesso posto stessa ora grazie Michi buona serata grazie a voi grazie a voi grazie mille però Paolo quello che c'è da dire è che insomma in generale poi sicuramente la conquista della seconda stella mitigherà la serata di ieri passare dalla finale di Champions dell'anno scorso a un'uscita così agli ottavi di finale secondo me fa male tanto sì perché intanto la finale di Champions è stata un espload e poi è perso comunque con una squadra decisamente più forte e invece ieri eri favorito il risultato dell'andata ma soprattutto la stagione altalenante dell'atletico è vero con grandi numeri in casa però molto molto fragile fuori e soprattutto dentro ad una transizione tattica lo aveva detto Simeone giocando chiusi giocando feroci il calcio è cambiato e non possiamo più vincere bisogna cambiare infatti stanno cambiando però come diceva anche Michele sono adesso più bravi a giocare da centrocampi in avanti piuttosto che dietro dove fanno fatica all'Inter a mio avviso ci ha illusi e si è illusa un po' perché in Italia non ha mai sbagliato una partita anche se con il senno di poi tu vai a vedere le ultime due ha tirato il remi in barca col Bologna ha tirato un po' il remi in barca con il Genoa quindi cosa voleva dire questa cosa forse noi abbagliati dal cammino dell'Inter pensavamo fosse anche una scelta così per risparmiare delle energie probabilmente invece in questo punto della stagione è arrivato che sul piano fisico non ne hanno molto perché ieri sul piano fisico soprattutto in giocatori che solitamente sono straripanti penso a Turam ma penso anche alla freschezza di Mkhitaryan e ieri non ne avevano ieri non ne avevano e quindi e dai e dai e dai alla lunga l'atletico è uscito e meritatamente si è qualificato nei cambi è stato più bravo o ha avuto scelte migliori Simeone perché quando mette Correa e Depay questi vanno a 3.000 allora invece l'Inter con i cambi non ha mai svoltato su nulla cioè a un certo punto hai visto Depay che ha dato una spallata a Bissec e l'ha lasciato lì cioè Bissec è una montagna comunque ecco quindi secondo me l'Inter l'ha persa sicuramente sul piano dell'intensità fisica perché la forza dell'Inter è di ripartire in freschezza ieri non ne avevano e poi forse anche a livello psicologico forse magari non avevano questo grosso focus chiudo dicendo che in modo più rappresentativo e negativo è stato Turam che sembrava giocasse quasi una partita un amichevole settimanale tacchettini atteggiamento un po' così ecco le due cose poca intensità fisica e secondo me una sottovalutazione forse inconscio ovviamente dell'avversario può essere una cosa del genere cioè un Inter che comunque in Italia sta facendo quello che sta facendo andrà a conquistare un campionato con pieno merito e con largo anticipo e poi in Europa però sembrava avesse fatto il famoso clic mentale noi diciamo da Istanbul in poi ad ascoltare Inzaghi lui dice no è nato a prima Francesco bisogna partire da una cosa che il calcio non è una scienza esatta per cui tu puoi affrontare una partita in maniera direi secondo me da da favorito perché l'Inter è più forte dell'Atletico Madrid ieri l'Atletico Madrid gli è andato bene tutto all'Inter ha cominciato con il gol che ha preso su un errore di Pavard che solitamente non fa quegli errori lì ha proseguito con due errori uno di Turam e uno di Varella che solitamente non fa e in più anche l'allenatore ci ha messo il suo perché io non avrei mai tolto Bastoni e Di Marco mai perché ha dato un segnale sbagliato all'Atletico ha detto adesso ci difendiamo e questa è stata la cosa peggiore che poteva fare secondo me l'ha fatto inconsciamento ovviamente perché avendo la sicurezza di quasi tutti i giocatori che ha a disposizione lui ha cambiato con la certezza che questi facessero bene invece abbiamo visto che anche lo stesso Acerbi che solitamente non sbaglia una partita ieri non ha dimostrato di essere all'altezza dopo è chiaro non ha giocato dall'inizio però ieri sì però questo non vuol dire se io ti cambio vuol dire che oltretutto sei un mio uomo ti ho portato alla Lazio all'Inter sì ma non stava bene però lui aveva giocato poco però scusami Paolo se uno non sta bene non lo porti in panchina a me quando dicono non stava bene però lo metto dentro è una falsità perché se non sta bene non ti arrischi a buttarlo dentro soprattutto in una partita determinante come quella come quella di ieri questo dunque Simone Inzaghi Gigi sul discorso rigori è vero che poi il rigore è una specialità un po' particolare per cui non è detto che un giocatore clamorosamente forte come Lautaro può sapere attirare i rigori pur essendo uno che segna in tutti i modi e fa spesso e volentieri gol bellissimi però qualcuno è rimasto perplesso sul fatto di aver fatto calciare Sanchez che ne ha sbagliati tanti in carriera Lautaro Klassen che aveva pochi minuti nelle gambe però poi Michele ci faceva notare che tutti gli altri chi aveva tirato un rigore chi due in carriera c'è da dire quando fai queste partite ti alleni tutta la settimana a tirare dei rigori perché le metti in preventivo i rigori si allenano? ovviamente ovviamente metti il tuo portiere e fai tirare 20 rigori e poi vedi che percentuale ha di realizzare perché per scegliere i 5 devi avere conoscenza di come tira i rigori 1 dopo come puoi dire a Lautaro che è uno che fa goli impressionanti no, non lo tiri perché hai sbagliato due o tre rigori è chiaro che non può farlo dopo c'è da dire una cosa che quando vuol dire no io ho visto la finale mondiale Brasile-Italia hanno sbagliato Baresi e Baggio io Baggio l'ho visto quando tiravo i rigori raramente sbagliava però esiste anche questa possibilità per cui io non darei troppa troppa colpa ai rigori io invece farei un mea culpa su quello che non hanno fatto durante la partita perché dicono tanto di Lautaro ma Lautaro ha dato via due palloni davanti al portiere che già quello ti fa dare la sufficienza in più è arrivato un attimo in ritardo su quel colpo di testa sul primo palo che sarebbe stato un gol a Lautaro certo non è stato protagonista per tanto perché la squadra in determinati momenti non ha mai preso palla perché soprattutto nel secondo tempo l'Inter è stata paurosa dopo si è ripresa nei tempi supplementari ma nel secondo tempo è stata paurosa a detta di tutti anche un flash da Bergamo con l'Atalanta che sembra molto più convinta del primo tempo ma deve fare attenzione dietro si deve fare attenzione adesso questa palla che è passata attraversando tutta l'area di rigore ci è arrivato Ignacio dalla parte sinistra del campo poteva essere davvero una brutta situazione per fortuna dell'Atalanta però Ignacio non è riuscito a colpirla e quindi si resta uno a uno e insomma credo che qui decideranno gli episodi perché è una partita equilibrata da quest'idea poi insomma il calcio spesso si può essere smentiti da un momento all'altro è una gara in questo momento molto bloccata per cui vediamo cosa succede ma lo Sporting mi sembra che abbia reagito bene al gol subito anzi attenzione adesso che va in profondità il numero 47 viene chiuso da Zappacosta senza fallo l'arbitro non fischia nulla è stato bravo qui Zappacosta poi Lukman si gira sul numero 3 fa ripartire l'Atalanta però lo Sporting riparte spesso in contropiede negli spazi quindi deve stare attenta a non scoprirsi troppo perché l'Atalanta fretta non vuole andare ai supplementari avendo anche in campionato un qualcosa da mirare ha avuto un calendario in questo periodo veramente molto fitto e quindi insomma avere anche un'altra mezz'ora in più sarebbe pesante ricordiamoci che domenica l'Atalanta gioca con la Fiorentina è un'altra partita importante delicata per la classifica dicevi Matteo parlo personalmente poi magari non siete d'accordo però per me Juhlman è un rimpianto a livello di Serie A cioè è un giocatore molto forte che per me poteva fare la sua onestissima figura forse non nell'Inter secondo me già nel Milan con lì se la gioca però in Italia secondo me potrebbe giocare titolare davvero ovunque forse non all'Inter è veramente un bel giocatore è un peccato che sia stato peccato che nessun club possa spendere quei soldi per prendere Juhlman quanto è andato via sul mercato interno è praticamente quei bonus a 80 quasi Juhlman eh sì quello che giocava allo United no quelli no io dico Juhlman perdonami no perché mi sembrava strano 80 milioni in Lecce si è fatto 80 milioni no no mi sembrava strano ho confuso con l'Oilund esatto Juhlman secondo me è un ottimo giocatore comunque sono andato a rivedere le cifre non sono gli 80 di Oilund ovviamente però è andato via per 19 più 5 di bonus quindi 24 milioni ma non sbaglio il Milan c'era era un nome ma non ha quella cifra non ha quella cifra non ha quella cifra quello che per me secondo me è un rimpianto un giocatore molto interessante poi giovane 99 se non sbaglio quindi Restando sull'Inter Marcello ha vinto la squadra che ha meritato di più ha vinto la squadra più forte ha vinto la squadra che? Non so se ha vinto la più forte ha vinto sicuramente quella che ha meritato e che ci ha creduto di più fino alla fine e poi secondo me visto che hai fatto sentire prima l'intervista di le dichiarazioni di Simonin Zaghi Simonin Zaghi ha questo difetto che a volte ha delle amnesie cioè lui ricorda sempre perfettamente quello che fa la sua squadra dimentica sempre quello che fanno gli avversari cioè lui non può dire eh sì c'è dispiaciuto eh dovevamo approfittare lì dovevamo approfittare qua abbiamo fatto questo abbiamo sbagliato quello non si ricorda che cosa si è mangiato il Real Madrid il Atlético Madrid cioè l'azione il palo che hanno preso il gol mancato al 94esimo da Rick Elmer se lo dimentica cioè ha questa amnesia ogni tanto che francamente non depongono a suo favore perché lui è un bravo tecnico è uno che secondo me ieri l'ha sbagliata anche lui eh perché al di là proprio anche dei cambi cioè io non riesco a capire come fa una squadra forte come l'Inter nel momento in cui sei in vantaggio di 2 a 0 perché tu quando fai il gol di Di Marco tu sei in vantaggio adesso di due lunghezze è possibile possibile che una squadra di quel tipo che sta stravincendo il campionato italiano non è in grado di gestire quel vantaggio e di portare a casa la qualificazione di andare addirittura i supplementari e i rigori beh l'ho trovato strano sì Marcello però il gol del pareggio non è stato frutto di un'azione è stato frutto di un errore clamoroso di uno che è stato campione del mondo Scamacca 2 a 1 Atalanta l'Atalanta la ribalta al minuto 59 una bella azione con l'assist di Mirancuc Scamacca qui è bravo Scamacca che tra l'altro deve avere un conto aperto con lo Sporting Lisbona perché gli ha segnato tutte le volte che l'ha trovato in questa stagione e quindi insomma si conferma davvero la bestia nera dei portoghesi vediamo se è tutto regolare intanto c'è questo pallone recuperato da Deron molto bene poi Ederson per Scamacca Scamacca allarga sulla destra per Mirancuc Mirancuc guarda il taglio di Scamacca è tutto buonissimo tutto regolarissimo Atalanta in vantaggio l'ha ribaltata 2 a 1 59 di gioco e adesso è l'Atalanta da avere tra l'altro l'Atalanta ha segnato anche il Karabakh il Karabakh a Leverkusen è passato in vantaggio quindi adesso Karabakh l'aggregate hai ragione all'andata 2 a 2 hai ragione all'andata 2 a 2 quindi in questo momento il Leverkusen deve fare 2 gol per qualificarsi se ne fa 1 sarebbe tutto in parità tu pensi che il Karabakh era avanti 2 a 0 fino a una manciata di minuti alla fine potrebbe essere la sorpresa della serata il Leverkusen ha pareggiato nel recupero ha pareggiato nel recupero il Leverkusen si pensava che potesse avere vita facile in casa invece no perché il Karabakh sta vincendo in questo momento è la sorpresa della serata la potenziale eliminazione del Bayer Leverkusen tra l'altro dicevamo c'è qualcuno che sa dove diavolo è Karabakh è in Azerbaigian quello ci arriva se dovessi avere davanti una quartina dell'Europa no sinceramente no non lo farei ma non esiste Karabakh la città si chiama è come Atalanta adesso ve lo dico esatto è come Atalanta adesso lo vado a cercare adesso vallo a recuperare no no vado io vado io metti che poi qualcuno deve finire a Karabakh metti che lo sorteggino potrebbe è di Baku la capitale vabbè non è facile Armenia 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 Azerbaigian Azerbaigian scusa 4 hai geografia qui male Marcello va bene va bene che non hai frequentato l'Europa quest'anno però devi fare un ripassino perché nello prossimo ci torni Marcello si ho sbagliato anzi la geografia europea è mondiale perché poi andrai a fare anche quello ma quella zona lì è complessa eh lo so Azerbaigian Armenia sono abbastanza complessi poi per tua fortuna il mondiale del 2025 lo fanno negli Stati Uniti quindi abbastanza lì si va in città abbastanza abbastanza conosciute queste dunque le parole di Simone Inzaghi che affronterà il Napoli a San Siro domenica è sempre un caso per Simone Inzaghi è sempre un caso è sempre un caso che l'Inter quando viene eliminato in Coppa Italia è sempre un caso eh siamo andati supplementari col Bologna eh ma però qui abbiamo perso i rigori che poi non è vero sempre un caso che capita così casualmente sai gli altri vincono così mi dice ma ma tra l'altro non è vero perché loro al novantesimo hanno perso cioè la partita al novantesimo l'Inter perde sono due dichiarazioni diverse qui lui dice usciamo imbattuti nel girone qui spiega il girone in altre dichiarazioni dice usciamo da imbattuti cosa che non è vero perché al novantesimo è la 2 a 1 esatto intanto Leverkusen ha segnato pareggia pareggia gol di Frimpong manca 17 minuti adesso Leverkusen in partita anche perché il Carabag è in 10 pensate cos'è la valla di Leverkusen in questo momento già l'andata già l'andata il Leverkusen 2 a 0 ha fatto 2 a 2 sì sì in stra recupero anche all'andata segnò il gol del 2 a 2 esatto perché fino all'ottantottesimo mi sembra che fosse sotto per 2 a 0 per quella che sarebbe stata una grande impresa la ripartenza dell'Atalanta 3 contro 3 sì Miranciuk che porta palla decide di andare da solo sbaglia una scelta sbagliata questa però secondo me hanno sbagliato anche Lukman e De Ketelar perché non gli hanno fatto il movimento giusto per permettergli un passaggio migliore comunque occasione sprecata perché questo era un 3 contro 3 da sfruttare molto meglio adesso attenzione allo sporting perché siamo già dall'altra parte c'è Catamo che si incespica su se stesso e Zappacosta alla fine riesce a spazzare via ma poi tra l'altro scusami Bonfi quando lui parla sempre sempre Simone Inzaghi che dice abbiamo passato il girone da imbattuti prima di tutto dovresti dire abbiamo passato il girone da secondi contro la sesta della Liga che ha perso andate e ritorno agli ottavi cioè lui dei particolari che non li sottolinea mai cioè tu non è che hai fatto un girone splendido e non era un girone difficile no no fai bene sottolineano Marcello perché forse l'eliminazione è anche figlia di quel secondo posto perché sei andato a prenderti una squadra che ha vinto il girone appunto 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 quindi no però non gli sarebbe andata neanche bene perché avrebbe beccato il Paris Saint Germain perché il Real Sociedad avrebbe beccato il Paris Saint Germain quindi non è che teoricamente sì teoricamente sì però magari ecco il Paris Saint Germain paradossalmente questa Inter magari va a trovare meno difficoltà anche con un atletico Madrid però non è così matematico perché avendo l'italiana nella prima fascia non c'erano quelle le altre nella seconda fascia non è detto che avrebbe automaticamente preso il Paris Saint Germain ma quando ho fatto l'estrazione tutti erano contenti di aver avuto l'atletico Madrid sì forse non è che si sono facciati la terra l'osservazione è tanto corretta quanto dimostra come forse un pelo di sottovalutazione c'è stata cosa dici ma quello quello sicuramente anche perché te l'ho detto è grave secondo me sono partiti sono partiti da Inter vera dopo aver fatto l'1-0 e aver preso subito l'1-pari si sono impauriti e lì è venuta fuori un po' l'indola italiana difendiamoci perché loro devono ancora fare un gol e quello l'indola è allegriana l'indola è allegriana ha diventato un po' allegriano ha avuto il braccino ieri Simone secondo me non l'hanno calcolato secondo me erano in difficoltà ogni volta che l'atletico buttava pallone in mezzo erano sempre mal posizionati sia di reparto che individualmente cioè sembravano distratti vabbè Pavard è l'emblema però in verità l'Inter in Champions non ha mai fatto partite convincenti no? quest'anno se andiamo a vedere è vero è vero c'è stata c'è questa distonia tra il campionato e il cammino in Europa nettissima al punto tale che dicevamo ma sai hanno talmente il focus sulla seconda stella che in Champions non solo c'è una doppia distonia perché l'anno scorso ha fatto esattamente il contrario balbettante e timorosa con una valanga di sconfitte contro squadre di secondo livello in campionato molto più solido del Champions League quest'anno era ridotto il campionato balbettante in cera l'anno scorso con un girono è ben più difficile perché aveva il barcellona con un girono che l'anno scorso ha mandato a casa il barcellona nei gironi e poi comunque ha fatto il barcellona ricordiamoci il barcellona come l'ha mandato a casa il barcellona lasciamo perdere che sennò poi torniamo sempre sui soliti discorsi quest'anno in Champions e poi nella seconda parte della Champions quel girono quel sorteggio lì l'ha molto favorita moltissimo perché non so se fosse finita dall'altra parte se arrivava in finale dicevi Matteo? no dicevo che io l'ho detto nella trasmissione delle 18 e 30 ma lo ripeto anche adesso quello dell'Inter era un fallimento quest'anno in Champions League poi magari passa inosservata questa cosa ma è arrivata a seconda in un girone facilissimo anche se Matteo il loro primo obiettivo era la seconda stella la detta che zang però scusa sarebbe stato più fallimento fossero andate avanti in campionato in finale di Champions League indipendentemente da girone difficile sorteggio no non è un fallimento per me non è un fallimento non è un fallimento però una grande delusione questa sì una grande delusione esatto mi aspettavo che almeno soprattutto lo faccio indietro però bisogna dire le cose in maniera corretta perché il Milan è stato etichettato come fallimentare uscendo ai gironi contro ai gironi contro ai gironi a girone e in Coppa Italia ragazzi però scusate il Milan è stato etichettato come fallimentare in Champions League in Champions League è uscito in un girone con PSG Dortmund ma se Dortmund abbiamo detto adesso che è la più debole di quella che aveva avanti ho capito ma è uscito ma è arrivato primo ha fatto mille pareggi per demerito proprio anche sì ho capito ma non è che con gli chiesto ma non sto giudicando la prestazione il pareggio sto giudicando in toto in toto il Milan esce ai gironi dopo essere arrivati in semifinale l'anno scorso è un fallimento giustissimo l'Inter è arrivata in finale l'anno scorso è arrivata a seconda in un girone con Real Sociedad Benfica e pensa a te che è la terza squadra manco me la ricordo non mi ricordo qual è la terza squadra Salisburgo ed è uscita agli ottavi con l'Atletico di Madrid per me se è un fallimento quello del Milan è un fallimento anche quello del Milan basta io la vedo così io parlare di fallimento con una squadra che esce nel playoff di Champions League mi sembra un po' forte quello che è certo è che è un grosso segnale negativo a livello di continuità perché io arrivo a dire è chiaro che vincere un trofeo è grandioso e resta nell'albo d'oro arrivo a dire e credo che Marcello potrà essere d'accordo vista la sua ampia casistica in materia che anche perdere una finale passata la delusione del momento è un ottimo risultato perché vuol dire che ci sei arrivato però la grande come l'hai persa tra l'altro a parte quella in generale dico arrivare a giocarsi una finale europea chiunque ci arrivi avessi perso 4-0 golsetti non diremmo le stesse cose comunque ci sei arrivato però una squadra di livello deve avere una certa continuità non vuol dire arrivare tutti gli anni in finale per carità neanche il Real Madrid lo fa però vuol dire se non arrivi in finale arrivare in semifinale l'anno dopo i quarti l'anno dopo torni in semifinale e poi la vinci se un anno fai la finale e l'anno dopo esci subito agli ottavi questa è mancanza di continuità i tre anni di Inzaghi sono ottavi finale ottavi per cui ti dà più l'impressione che il livello sia agli ottavi e la finale sia stato un esploat piuttosto che il contrario pure Simone Inzaghi aveva dichiarato che i ragazzi la squadra avevano preso la consapevolezza delle loro forze che erano convinti di poter di nuovo bissare il risultato dell'anno scorso per lo meno arrivare alla finale e questo non si è verificato perché effettivamente io rieputo il cammino in Champions abbastanza deludente esatto quindi se Inzaghi aveva questa consapevolezza se c'è la non luffa delle dichiarazioni l'ha detto Matteo esatto ma poi c'è la non luffa delle dichiarazioni dove dice ho una strana sensazione possiamo arrivare in fondo io sommo gli addendi per me parlo per me ma come stava andando in campionato era abbastanza logico che dicesse queste cose abbiamo detto tutti che l'Inter stava facendo cose straordinarie straordinarie come l'anno scorso di Napoli quello che dico io è che secondo me ci vuole lo stesso metro di giudizio per tutte le squadre poteva pensare di arrivare più in là di quello che aveva fatto l'anno scorso perché quest'anno la squadra è più forte dell'anno scorso certo appunto appunto per quello Gigi io sono d'accordo con te appunto per quello è un fallimento un giornalista tifoso dell'Inter dicendo che mai l'Inter ha giocato così bene per cui uno poteva presupporre che andando a giocare con una squadra abbastanza deludente nel campionato che stava facendo come l'Atletico Madrid potesse essere favoritissimo certo sono d'accordo però mister da allenatore l'Inter di quest'anno è più forte dell'Inter dell'anno scorso o gioca meglio dell'Inter dell'anno scorso la seconda probabilmente siamo d'accordo io non sono sicuro che sia più forte dell'anno scorso no per me è più forte perché Barella è diventato più forte Barella l'anno scorso l'ho detto era sempre un magnifico giocatore ma era un po' da oratorio nel senso che andava ovunque ci fosse la palla adesso invece è anche tatticamente messo bene per cui direi che la squadra è più forte perché se il centrocampo ti dà garanzie è chiaro che ne trae vantaggio tutto lì davanti Turam è certamente un compagno più adatto Lautaro che Lukaku per cui probabilmente però gli manca il terzo l'anno scorso la VJ conquistano tra Arnauto e Sanchez non ne fanno uno se vogliamo cercare il pelo non avevano una riserva questi due in difesa poi hanno preso un altro che doveva essere un gigante come Pavard però era andato via Scrinia quindi teoricamente era un passo indietro però Pavard è il campione del mondo Pavard si è dimostrato fortissimo ma nel momento del mercato dire perdo Scrinia sembra un indebolimento dopo c'era c'era il problema del portiere invece si è dimostrato molto forte direi che con tutte queste chissano che diventa ma io divento ma perché voglio dire come si fa a dire mio malgrado io sono milanista spiegatato l'Atletico ha battuto l'Inter non dico ha fatto salti di gioia ma mi sono compiaciuto per la prestazione nell'Atletico e per la non prestazione dell'Inter ma come si fa a criticare un Inter che ha segnato 84 gole e ne ha subiti due in 39 non la stavamo criticando non la stavamo criticando 84 gole 84 gole e ne ha subiti solamente 22 in 39 partite Tiziano lì mi ha chiesto la differenza invece che diventare matto dovresti diventare uno che ascolta e capisce posso parlare o fai un nuovo no se dici delle stupidate se c'è uno che dice stupidate quello sei tu quello sei tu non l'ho criticato l'Inter sai tu che sei ma ne io ne abbiamo criticato l'Inter ma non mi interessa quello che dice lui può dire quello che vuole tu no fai già vigliere se l'Inter è più forte o meno dell'anno scorso secondo me non puoi parlare di calzo ma non è più forte 84 gole 22 subiti in 39 partite stagionale questo vuol dire che gioca molto meglio non che è più forte poi ha sbagliato ha sbagliato la partita la partita con l'Atletico Madrid critichiamola per quella ma non diciamo è un fallimento perché 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 è stata eliminata la Real Madrid ha sbagliato con il Real Madrid perché ha sbagliato l'Atletico punto poi stavano dicendo un'altra cosa no noi noi chi io lui stavo parlando di un'altra cosa io stavo parlando con lui di un'altra cosa infatti la spiego in pausa pubblicitaria ti faccio il disegnino così forse ci arrivi eccoci qui di noi insieme parliamo allora di Juventus i piani dell'Eventus per il futuro tra un attimo magari anche grazie a Paolo cerchiamo un attimo di tracciare un po' la linea però Marcello la cosa fondamentale insomma che questa squadra ricominci in qualche modo a vincere perché insomma i risultati dell'ultimo periodo sono e raccontano di una frenata piuttosto brusca della Juventus sì deve cominciare a vincere l'allenatore non deve dire beh abbiamo guadagnato un punto su Bologna pareggiando con l'Atalanta perché io penso che il fatto che la Juventus sia così implosa da Empoli guarda questa grafica Marcello sei punti su 21 nelle ultime sette è una media è una media da zona retrocessione è 0.82 se non sbaglio 0.80 media retrocessione sì è media retrocessione io penso che sia è vero che i giocatori hanno reso di meno ma è anche vero che l'allenatore non ha dato nulla di più cioè lui si può anche sbracciare incavolare gridare urlare togliere il cappotto buttare la giacca quando è in panchina il problema è che lui nella settimana deve lavorare sulla testa anche dei giocatori e quei giocatori lì che erano rimasti male dopo il pareggio in casa con l'Empoli tra l'altro arrivato dopo essere passato in vantaggio ancora più grave la sconfitta con l'Inter pensavo di non farcela più ma sei tu che gli devi ridare le motivazioni comunque per tornare non dico in corsa per lo scudetto ma comunque per stare comunque al passo di come stavi andando prima invece lui non è stato in grado non è stato in grado di farlo infatti la squadra continua a non vincere più tra l'altro tante partenti di queste partite sono state giocate in casa tra le mure amica e io devo dirti la verità ho anche notato da parte del pubblico che non c'è più quella come dire quel sentimento di gente che ci crede vanno allo stadio perché ormai hanno gli abbonamenti hanno preso i biglietti ma con l'Atalanta c'era un pubblico molto dimesso diviso anche sul fare il tifo non fare il tifo perché chiaramente non c'è più entusiasmo la stessa cosa che hanno non hanno più i giocatori perché i giocatori non hanno avuto più entusiasmo però sei tu tecnico che alla fine della partita non devi dire ho spianfato 2-2 vabbè però abbiamo tenuto lontano il Bologna abbiamo preso un punto dal Bologna perché è riduttivo non è da allenatore della Juventus è lui che è lì da 8 anni perché 5 più la pausa più altri 3 dovrebbe saperlo Fabio ti vedevo convinto convintissimo quello che dice Marcello è assolutamente normale normale nel senso che è doveroso alla Juventus non puoi dire con tutto il rispetto per il Bologna abbiamo guadagnato un punto sul Bologna la Juventus deve puntare in alto alla Juventus vanno fatti secondo me applausi da spellarsi le mani per quello che ha fatto fino a subito prima della partita con l'Inter perché è riuscita a stare lì con un Inter che stava avendo lo stesso rendimento del Napoli dell'anno scorso c'era l'Empoli prima dell'Inter appunto fino a lì ho detto fino a prima dell'Inter apposta fino a prima dell'Inter cioè quando è inciampata con l'Empoli perché mentre il Napoli l'anno scorso se n'è andato da solo quest'anno l'Inter che ha avuto lo stesso rendimento non se n'era andata da sola perché la Juventus era stata lì poi la Juventus ha fatto sei punti sugli ultimi 21 va benissimo quindi fino a quel momento applausi a scena aperta dopo quel momento però la Juventus non può tirarsi indietro e nella figura del suo allenatore avere un approccio e una comunicazione di questo tipo sono assolutamente d'accordo a maggior ragione sono colpito dall'aver sentito Marcello che ha fatto una disamina tecnica di tre minuti sulla Juventus senza dire una volta che è colpa degli arbitri della federazione e quindi questo ha maggior ragione da applausi e mi ha colpito perché è del tutto particolare rispetto a l'Azol ma scendo le due cose sono due ragionamenti completamente diversi se devo affrontare il ragionamento della Juve il ragionamento della Juve poi se lo vogliamo ampliare agli arbitri quella è un'altra cosa e che comunque hanno inciso vedi che è bastato appoggiare è bastato dargli l'assist non è riuscito a resistere sì ma l'Inter ma l'Inter è più forte cioè a livello proprio di Rosa è più forte quindi lo si è visto nello scontro diretto Tiziano ti aspettavi di più dalla Juventus almeno in questa seconda parte di stagione visto che nella prima era stata credo l'una nelle ultime sette partite una sola vittoria una sola vittoria tre pareggi e ci abbiamo fatto la grafica cinque minuti fa e tre sconfitte cioè questa era la Juventus delle ultime sette partite davvero una molto deludente non mi aspettavo una sola vittoria una involuzione così evidente perché c'era la grafica là di fronte no io ce l'ho qua non ho bisogno lui ce l'ha capito lui ha con l'Empoli ha segnato Vlaovic poi Inter Juventus 1 a 0 Juventus Udinese 0 a 1 vediamo se sono giusti 2 a 2 Vlaovic Rambio Juventus Borosinone 3 a 2 2 gol Vlaovic 1 Rugani al 95 Napoli Juventus 2 a 1 ha segnato Chiesa per la Juventus ma perché dobbiamo fare tutto sto almanaccare perché dobbiamo almanaccare sai Tiziano che a descrivere i risultati dopo che si sono verificati sei il numero 1 quando scrivo prima che si si legge ma pensa a te che considerazione da pirla che hai fatto ma proprio sei la conferma che sei un pirla guarda un po' i piani futuri quali possono essere dopo i risultati e quando le faccio le considerazioni alla luce dei non risultati delle sconfitte e dei pareggi si aspetta la notizionista delle analisi delle previsioni ma quale previsioni che cosa prevedi cosa prevedi per dire quello che è successo che ha detto al lavoro è in funzione della mancazza dei risultati e delle involuzioni nelle ultime sette partite in cui c'è stata una sola vittoria detto questo i piani futuri della Juventus quali potrebbero essere verso dove potrebbe orientarsi visto che insomma penso che la qualificazione in Champions League sia abbastanza certa e porterà dei soldini finalmente allora realisticamente non pensare che il mondiale per club e la qualificazione in Champions League facciano cambiare i programmi della proprietà che portano all'autosostenibilità e al ritorno dei bilanci inutili dalla stagione 2026 2027 quindi dentro la Juve sanno che per un paio di stagioni ancora dovranno essere fatti dei sacrifici detto questo sicuramente ci sarà il budget non per prendere più giocatori ma per prendere un giocatore che loro considerano veramente forte e qui tutto converge se riusciranno su Copemainers è chiaro che Giuntoli in questo momento non può operare però può operare sulla gente del giocatore sul giocatore e stanno facendo di tutto poi hanno un piano con delle alternative come Michel Merino della Real Sociedad e questo è un tema il secondo tema è il rinnovo eventuale di Rabiot perché è chiaro che se Rabiot non dovesse rinnovare ma anche qui stanno facendo un lavoro ai fianchi sulla mamma procuratrice importante è chiaro che se Rabiot non dovesse rinnovare dovrebbero cercare un'altra mezzala e qualcosa con Ferguson può essere però io mi fermerei a Copemainers in questo momento dando un'altra chiave di lettura la Juve se potrà non farà l'operazione Copemainers o chi per lui con contropartite tecniche perché dovendo mettere finanze dentro al bilancio se le offerte per i cartellini dei vari sulle E Barrenecea Caio Giorgio eccetera saranno in contanti loro venderanno i giocatori e poi prenderanno il Copemainers della situazione al momento sembra che non vogliono se non arrivano offerte particolari cederi big per big mi riferisco a Bremer a Chiesa e a Vlaovic ecco la situazione in questo momento è un po' la seguente con un gran lavoro e chiudo Marcello con un gran lavoro per cercare di rinnovare ovviamente Rabiolo detto Vlaovic anche e possibilmente Chiesa e poi si vede no nel senso che io non penso allora per quello che riguarda Copemainers non è solo la Juve che lo vuole fare separato è anche l'Atalanta l'Atalanta non vuole contropartite vuole farlo secco cioè tu vuoi Copemainers mi dai 50-60 milioni quant'è che chiedo tutto il resto se mi può interessare tipo su lei che è un giocatore che interessa come anche Healing lo facciamo a parte e su questo la Juve ha dato disponibilità la Juve è vero in parte perché l'Atalanta non ha questi problemi di bilancio quindi potrebbe anche fare conguaglio e contropartite tecniche a me hanno detto così a me hanno detto che l'Atalanta lo vuole vendere proprio secco vuole fare tutti i soldi poi è disponibile a parlarne con Allegri in panchina cioè si riparte da Allegri ci sono dieci partite secondo me non possiamo dare adesso la soluzione di quello che farà la Juventus bisogna attendere dieci partite se Allegri vince tutte e vince la Coppa Italia è chiaro che ci sarà la riconferma naturale ma io non credo perché perché quest'anno Allegri ha dimostrato di non essere un allenatore costruttivo lui è è un magnifico gestore di giocatori però quest'anno non gli ho visto fare un qualcosa che potesse portare vantaggio alla Juve faccio un esempio a un certo punto ti è stato disegnato il reparto d'attacco con Chiesa Vlauvi se il non l'hai mai fatto giocare in difesa potevi giocare riportare Danilo lì giocare con Gatti e Bremer e di là Cambiaso che ti dico non è forte di più in mezzo hai McKennie Locatelli e Rabiot e davanti questi tre era naturale provare non ha mai tentato una volta di fare una squadra sottoscrivo zero coraggio secondo me questo è una squadra questa è una squadra logica perché Vlauvi non è un giocatore che vuole un compagno in attacco vuole essere il terminale alto e spaziare dove vuole lui non l'ha mai gli ha sempre messo a fianco Chiesa che non voleva star lì per cui non è mai stato attento al volere della squadra e questo è molto ma molto grave per il futuro futuro io credo che debbano trovare un terzino sinistro e spostare da questa parte Cambiaso per poi rimettere Danilo in mezzo non hanno bisogno di tante cose se prendono anche con Meister devono convincere Chiesa a essere un titolare della Juve e non pensare ad altro perché altrimenti gli si dice sempre che non lo vendano no se lui non si cala nella dimensione juventina deve prendere e andare via ma lui si è già calato ma lui si è già calato ma gioca fuori ruolo a dimensione juventina se lo fai giocare esterno lo vedi ma infatti andrà via l'allenatore ma infatti andrà via l'allenatore l'allenatore va via tu lo sai meglio di me che conosci Giuntoli Giuntoli non gli piace Allegri non te lo diranno mai e chi ci finisce sulla panchina della Juve Marcello lo so Tiago Motta è stato anche cioè così i segnali sulla sua disponibilità sono arrivati però tu Marcello sei meglio di me sei anche d'accordo che è giuntoli sull'allenatore non è che cioè lì passa molto dalla proprietà cioè quello che vorrà fare la proprietà no però non ha torto scusami perché dalla faccia di Allegri gli hanno già detto che non ci sarà più l'anno prossimo no da quello che si muove che si agita intorno cioè Giovanni Branchini che fa delle dichiarazioni quasi una difesa d'ufficio ma poi ha attaccato la società i giornalisti amici i giornalisti amici che lo sostengono ma perché loro hanno capito che comunque in modo preventivo Tiago Motta è osservato no? sì ma io non sarei sicuro e allora questa cosa gli dà fastidio non sarei sicuro in Tiago Motta perché Tiago Motta ha un trascorso anche nel Barcellona e il Barcellona sta cercando un allenatore è uno delle grandi panchine che si liberano ma chiaro sarà difficile tenerli in Italia non sarà facile tenerli in Italia ragazzi